Sono pronte per la consegna nei Ducati Store le 500 unità di Diavel Titanium, che la casa di Borgo Panigale aveva mostrato in anteprima al pubblico durante l'ultima edizione di Eifa, ottenendo larghi consensi. Dedicata ai motociclisti dai palati più fini, questa nuova serie limitata è stata realizzata con materiali particolarmente fregiati e con l'impiego in larga parte di titanio e carbonio. Ad aumentarne il lusso contribuisce il rinomato marchio Alcantara, che firma il rivestimento della sella, cucita a mano con inserti laterali in pelle. Non può certo stupire il prezzo, che per il mercato italiano è di 28.740 euro.